Host 2019, ci troviamo allo stand della Zumex, l'azienda spagnola che realizza macchine per la spremitura non solo di agrumi e ci troviamo in compagnia di Cristian Papararo, il responsabile Sud Europa. Bentornato Cristian. Grazie mille Fabio, bentornato anche a te al nostro stand e benvenuto a quest'altra edizione di Host 2019. Spieghiamo dunque quali sono le novità che proponete all'interno di questo splendido stand che presenta anche tante altre attrezzature. Sì, noi come tutti gli anni portiamo ad Host tutta la linea di prodotti, in questo caso presentiamo l'occasione di questa fiera tre novità molto molto importanti per noi che abbracciano un mercato molto molto ampio. Partiamo con la Soul che è una macchina che commercializzeremo nel secondo trimestre del 2020 passando poi per l'unica spremi melograno professionale automatica firmata Zumex che vediamo qui sulla destra e passando poi arriviamo per ultimi alla Versatile, un modello cashless che permette il pagamento con carta di credito direttamente all'utente finale. Tutte le vostre macchine sono destinate non solo al ramo Oreca, in parte al ramo retail negli ipermercati, nei supermercati e perché no anche alla distribuzione automatica laddove necessario. Sì esattamente, la linea di prodotti Zumex abbraccia più settori, partiamo da macchine da banco pensate per Oreca e Food Service passando poi per una linea di prodotti dedicata a retail che è la linea speed e anche una macchina un po' più piccolina che è la Versatile, una versione carrellata e dopodiché Zumex sì che è anche produttore di una linea vending, di una linea industriale e semi-industriale. La linea semi-industriale è composta da una Mastery che è una Colpress e da una Z450 che è una macchina spremi agrumi con una produzione molto molto importante e poi facciamo vestiti su misura come impianti industriali per tanti tanti produttori di frutta e verdura nel mondo. E allora, diamo loro un indirizzo di posta elettronica per potervi contattare nel caso in cui desiderino entrare in contatto con voi per maggiori informazioni, un contatto commerciale e, perché no, diventare vostri clienti. Sì, l'indirizzo mail è zoomx.com, per chi volesse direttamente avere il mio riferimento è cristian.papararo.com, su zoomx.com e zoomx.it, la versione italiana del sito, possono trovare tutte le informazioni, la linea dei prodotti e dove trovarci per acquistare i nostri prodotti. Cristian, ti ringrazio, ti lascio alle tante persone che sono dietro la telecamera che sono alla ricerca di informazioni di tutti i vostri modelli presentati qui a Oss 2019. Grazie. Grazie a te Fabio e un saluto a tutti gli ascoltatori di Eureka TV. Alla prossima edizione di Oss. Grazie a te Fabio e un saluto.